50 anni di sacerdozio per don antonio d'antonio parrocchia regina della pace di pescara uno momento importante da condividere con tanti tantissimi fedeli don antonio momento importante della mia vita in questi 50 anni come ho detto prima ce ne sono stati tanti ma in modo particolare l'affetto che ho ricevuto da tutti i fedeli e che ricevo ancora mi hanno dimostrato i miei parrocchiani un grande affetto in questo periodo che si sono dati da fare per organizzare questa festa pur essendo il periodo estivo si sono dati da fare senza risparmiarsi nessuno e questa per me è una cosa molto bella cosa ricorda di questi 50 anni di sacerdozio e tante cose tante cose 50 anni trascorsi in parte nel paese parte nella periferia e parte nella città completamente esperienze diverse l'uno dall'altro nel paese ci sono stati tanti momenti tanti momenti di festa momenti belli momenti meno belli anche perché quello era il mio paese nati io e nella periferia quando dovevo andare parroco a fondanelle e sembrava che dovessi andare in un bronx anche perché ci aveva una nominata non tanto bella e io la 16 anni sono stato benissimo qui nella città nel pieno centro e completamente realtà diversa sono stato accettato e mi sono affezionato ai miei fedeli cosa farebbe cosa non rifarebbe in questi 50 anni rifarei lo stesso il sacerdote